Ma no, fortunatamente non mi sto occupando di questo, quindi è una discussione all'interno del governo. Ovviamente si terrà conto di quello che è il risultato dell'Europa, dove la Lega è stata il partito più votato, quindi probabilmente toccherà a noi fare una proposta anche su un nome condiviso da tutto il governo e dal Presidente Conte, se fosse il portafoglio alla concorrenza bene, perché il tema della concorrenza e degli aiuti di Stato è un tema da cui l'Italia negli scorsi cinque anni ha subito molti danni per decisioni anche a nostro avviso sbagliate, quindi c'è un tema di riforma della normativa sugli aiuti di Stato che non vuol dire solo banche, ma vuol dire anche settore industriale, vuol dire anche agricoltura, quindi un portafoglio trasversale che ci può permettere di dare anche su un tema così importante un cambiamento che è necessario per non farci mangiare dalla concorrenza straniera, anche in tema di fusione e acquisizioni, in tema di creare campioni industriali, insomma ci vuole un approccio diverso rispetto a quello che non ci ha soddisfatto pienamente sul tema concorrenza e aiuti di Stato nei prossimi cinque anni, quindi se sarà quello bene. Ma non credo, viste le discussioni che hanno avuto prima di trovare un accordo ieri, indipendentemente dalla nazionalità, la Commissione e la BCE sono organi collegiali, è chiaro che avere la Presidenza dà un ruolo di prestigio e diritti di voto magari diversi, se sono in bilico ovviamente il voto del Presidente vale di più, ma credo che essendo organi collegiali non c'è differenza tra una nazionalità e l'altra, si diceva che Timmermans poteva essere un commissario anti-austerità e più vicino all'Italia. Io ricordo che Timmermans è stato il numero due della precedente Commissione, dove su questi temi non mi sembra si sia fatto un grande lavoro, è espressione di un paese come l'Olanda, che comunque ha una visione in generale diversa alla nostra, quindi al di là della nazionalità, al di là della partenza alla famiglia politica, non vedo una grande differenza, non vedevo un vantaggio di avere Timmermans piuttosto che la candidata tedesca. Vedremo, ripeto, aspettiamo il programma, che sarà un programma che dovrà essere condiviso e non espressione ovviamente della visione di una nazione piuttosto che un'altra. Sulla BCE la stessa cosa, non credo che indipendentemente dalla nazionalità, se si vuole andare avanti con la moneta unica, il prossimo Presidente della BCE possa fare qualcosa di diverso da quello che è stato fatto in questi anni, quindi un approccio diciamo con una politica monetaria più restrittiva metterebbe a rischio la stabilità stessa della zona euro, quindi credo che il Presidente prossimo debba tenere conto anche di queste dinamiche, non di una visione o di una vicinanza a certi ideali o a certe scuole di pensiero piuttosto che a un'altra, quindi non siamo preoccupati. Ma bisogna vedere quali sono le possibilità, è ovvio che dobbiamo tenere conto di quella che è la preferenza democratica, se i cittadini europei hanno votato in maggioranza per il Partito Popolare Europeo, se la CDU è uno dei partiti che è stato più votato all'interno di questa famiglia politica, è giusto che la maggioranza vada loro. Questo non vuol dire che noi dobbiamo supportare qualsiasi scelta che verrà fatta, non vuol dire che noi non possiamo fare opposizione appartenendo a una famiglia politica diversa su certi argomenti, cambia l'approccio. Noi siamo qui con un approccio molto costruttivo, ovviamente non siamo d'accordo e non saremo d'accordo su tutto, però aspettiamo anche un segnale dall'altra parte, noi siamo qui per lavorare, abbiamo delle idee per migliorare l'Europa, se ci sarà dato spazio, molto volentieri. Non è una questione che ci piaccia o meno, che dovevamo presentare alle elezioni un pacchetto piuttosto che un altro, abbiamo presentato il nostro programma, cercheremo di farlo portare avanti alla prossima commissione, è ovvio che se il PPS è stato il partito più votato è giusto che loro abbiano la maggioranza, abbiano l'onore e l'onere di formare una maggioranza e di fare delle proposte. Noi abbiamo i numeri per incidere sia in Parlamento e come lo abbiamo dimostrato anche in Consiglio, anche dove siedono gli stati membri.